Anticipazione una vita martedì 14 maggio 2019 puntata pomeridiana su canale 5 Silvia rifiuta di fuggire con Arturo dice che la sua missione è più importante dei suoi reali desideri dei suoi sentimenti e aggiunge che sposerà Zavala. Felipe vede il colonnello soffrire. Arturo evita di farsi consolare dalle parole dell'amico. Carvajal chiede a Valverde di continuare con i suoi piani nonostante i sentimenti che nutre per la Reyes. Ursula finge di voler aiutare sua figlia a ritrovare la serenità perduta con Samuel. Poi quando si imbatte in quest'ultimo lo esorta a farsi valere con la moglie per non attirarsi i pettegolezzi della gente. Puntata serale su Rete 4 Susana, pentita di aver venduto l'abito da sposa destinato a Casilda, a Silvia, promette che ne farà uno nuovo appositamente per la cameriera. Inigo e Flora non sanno se aprire la deliziosa oppure meno. La rivolta in strada intanto fa sentire i suoi primi effetti. Il servera alla fine decide di unirsi allo sciopero per fare colpo su Leonore. Ursula continua a portare avanti il suo piano. Deve isolare la figlia e dà ai vicini una falsa lettera per infangare Blanca. Leonore delusa abbandona la sua amica. Samuel tenta di avere un rapporto con sua moglie ma fallisce nel suo intento e ciò grazie anche all'arrivo improvviso di Carmen. La ragazza inoltre crede che sua madre la proteggerà dalle losche intenzioni del marito ma si sbaglia di grosso perché Ursula ha ben altro per la testa e cioè lasciarla in balia del ragazzo. Ramon si appella a Ribau per annullare lo sciopero degli operai. Il losco imprenditore si prende gioco di lui e il palazio sminaccia di Vigli chi si cela dietro la soffiata alla polizia. Nel frattempo la situazione in quartiere è sempre più tesa. Susanna sospetta di Inigo e Flora in quanto la deliziosa è l'unica attività ad essere rispettata.